Chiama quelli del comitato a ballare? Noi vediamo tutti quelli del comitato adesso a ballare così insieme a noi a sorpresa e a risposta in alcuni filmati che dopo andremo a proporre qua la ballata, quindi che tutti gli assi Ponte il mio, ponte di lunga Ponte il mio, ponte di lunga Ponte il mio, ponte di lunga Chiama che rai la bella, che fanno in compagnia Anche un'altra, che fanno in calda e il suo destra Chiama che fa, che fanno in calda e il sere come un'altra Chiama che mi ha colore, che fanno in calda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.